La stazione dei Carabinieri di Pieve del Grappa ha deferito in stato di libertà per il reato di porto di oggetti atti ad offendere un 19enne della provincia di Belluno, ma già conosciuto alla giustizia. Il giovane era stato controllato mentre circolava a piedi nel territorio di Paderno, precisamente in via Cadorna. Addosso aveva un coltello debitamente sequestrato, sanzionato anche per aver violato le disposizioni anti-Covid.